Siamo venuti a trovare il sindaco di Cison di Valmarino, Cristina Pin. Buonasera sindaco, ci aggiorna sul probabile arrivo di profughi al borgo Teson di Soller? Da notizie fresche di questa mattina è assolutamente certo che il proprietario aderirà. Ovviamente è una questione di soldi, di recupero di cifre che gli permettono di realizzare qualcosa. Sindaco, quando ha saputo la notizia e come si è mossa? Quando ha saputo la notizia sinceramente ci sono rimasta non male, malissimo anche perché mai avrei pensato che quella struttura così bella, comunque magari ultimamente non andava tanto bene ma c'era la possibilità di rilanciarla, potesse andare in una situazione così poco poco gradita. Ovviamente ho chiamato subito il proprietario con il quale mi sono confrontata e mi ha subito dato l'impressione che insomma poco ci fosse da fare. Lui metto che ci aveva pensato non sono più riuscita a parlarci e ripeto chi l'ha contattato ha comunque confermato la volontà di andare avanti. In paese non si parla d'altro, cosa si sente di dire ai suoi concittadini? Credo bene perché è un problema che vivo in prima persona ovviamente anch'io visto che abito in questo paese. Io dico solo che l'amministrazione comunque sta facendo di tutto, anche se devo chiarire la posizione dell'amministrazione che purtroppo è in una situazione in cui può fare poco rispetto alla volontà del privato. Noi ovviamente siamo al fianco dei cittadini e ringrazio i miei colleghi sindaci che mi stanno dando una mano, anche perché come sempre l'Unione fa la forza. E anche perché è normale credere che insomma la ricaduta non sarà solo sul mio comune ma ovviamente in tutti i comuni limitrofi. E se pensiamo a quanto stiamo lavorando dalmeno a vent'anni per poter portare questa zona interessante a livello turistico devo dire che questo mi fa ancora più male. Non voglio illudere nessuno e voglio comunque rassicurare tutti i miei cittadini che tutto quello che sarà il nostro potere verrà fatto. Grazie a tutti.